Allora, breve premessa. Mio padre, a 26 anni, lavorava da quando ne aveva 16. Era fidanzato con mia madre da quasi 8 e stava per sposarsi. Io, adesso, ne ho tipo 21, 21 compiuti, e quando mi sveglio la mattina non mi rifaccio il letto. E se qualcuno mi parla di matrimonio, tipo, impallidisco come un bambino delle elementari quando gli viene chiesto, ce l'hai la fidanzatina? Bene, traduco in italiano. Come tutti quelli che non si sono accontentati di un diploma, affronto la mia vita una sessione universitaria per volta, e, ad onore del vero, mi sento un po' una merda quando provo a paragonare i miei esami con le lotte sindacali di mio padre. In tutto questo, però, cerco di calmarmi, dicendomi che, insomma, apparteniamo a due generazioni diverse, completamente diverse, e che in fondo in fondo non sono nemmeno l'unico, no? La mia è una condizione generale, ecco, con cui ogni ragazza della mia età prima o poi deve farci conti. Questo confronto generazionale, però, non è una novità, non è nato a caso nella mia testolina da studente vuota e rimpinzata di formule, nozioni o poesie. È un confronto che nasce molto tempo fa, ad essere precisi, diciamo, ad inizio novecento, e che trova la sua totale materializzazione con la nascita della cosiddetta moda giovanile del secondo dopoguerra, negli anni cinquanta, per capirci, quando cominciavano a venire fuori i primi blue jeans, le t-shirt, e le giacche in pelle, seguendo anche quello che era, no, lo stile americano di James Dean. Cazzo, che stile che aveva quell'uomo. Infatti, se mai vi capitasse una foto dei vostri nonni da piccoli, o da ragazzini, magari, facendoci caso, vedrete che non fanno altro che indossare vestiti da grandi, adattati alle loro piccole misure. Mio nonno in foto a sei anni già portava la cravatta, io la cravatta l'ho messa al massimo per il prom del liceo, e già al terzo gin tonic me l'ero legata in testa tipo John Rambo mentre smitraiava Viet Cong. Tornando a noi e dal nostro scontro generazionale, nella letteratura italiana lo vediamo per la prima volta in autori come Svevo, nel famoso schiaffo che il padre dà a Zeno Cosini prima di morire, e ancora prima in Federico Tozzi, non Umberto, quello lasciamolo da parte, ha già avuto i suoi 15 minuti di gloria, anzi, forse anche più di 15 grazie a Berlino che canta di amo nella casa di carta. Nella letteratura europea, invece, tocchiamo l'apice con un grande scrittore che sicuramente voi conoscerete, Franz Kafka, che nel 1919, dopo essere sopravvissuto alla spagnola e mostrando i primi segni della tubercolosi, scrisse la lettera al padre. Non era la prima volta che lo scrittore provava a comunicare con il genitore, nella speranza di trovare, attraverso la distanza di una pagina scritta, quello che poteva essere un chiarimento del loro difficile rapporto, consumato da anni di incomprensioni e da pisanti silenzi. Egli diede la lettera alla madre, ma a nulla avalse questo ultimo e disperato tentativo. Ella, infatti, consapevole dell'inutilità del gesto del figlio, viene restituì, senza che questa venne mai letta dal padre Herman. La lettera venne pubblicata a posto, ma solo nel 1952, e, a mio avviso, non si tratta solo di uno sfogo personale, perché trova in essa un vero e proprio valore letterario, che forse lo stesso Kafka già aveva intuito, tanto che la definì una lettera da avvocato e si avvalse di tutti gli artifici retorici necessari per renderla chiara, incisiva e analitica. Quasi si volesse giustificare non solo davanti al padre, ma anche davanti all'intera umanità, mostrando un vero e proprio bilancio della propria vita, dicendo Sposarsi, fondare una famiglia, accettare tutti i figli che verranno, provvedere a loro in questo mondo insicuro e magari guidarli un po'. È, a mio avviso, la meta più alta che un uomo possa realizzare. Concludo scendendo in un piccolo particolare, che dalla traduzione dal tedesco non si coglie, ma che per me simbolizza un po' tutto il messaggio universale che vorrei trasmettervi oggi. Kafka, infatti, pur scrivendo in prima persona, usa spessissimo il pronome impersonale man, come se a parlare non fosse lui, ma io, te, ognuno di noi che, leggendo queste parole, ci si riconosce almeno un po'. «Carissimo padre, di recente mi hai domandato perché mai sostengo di avere paura di te. Come al solito, non ho saputo risponderti niente, in parte proprio per la paura che ho di te, in parte perché questa paura si fonda su una quantità tale di dettagli che parlando non saprei coordinarli neppure passabilmente. E anche se tento di risponderti per iscritto, il mio tentativo sarà necessariamente assai incompleto, sia perché anche nello scrivere mi sono d'ostacolo la paura che ho di te e le sue conseguenze, sia perché la vastità del materiale supera di gran lunga la mia memoria e il mio intelletto. Per te la cosa è sempre stata molto semplice, almeno nella misura in cui ne hai parlato davanti a me e indiscriminatamente davanti a molti altri. Ti pareva che stesse più o meno così? Tu hai lavorato sodo per tutta una vita, hai sacrificato ogni cosa per i tuoi figli, soprattutto per me. Di conseguenza, io ho fatto la bella vita, ho avuto la massima libertà di studiare quello che volevo. Non ho dovuto preoccuparmi né di procurarmi il cibo né di qualsiasi altra cosa. Tu non pretendevi per questo la mia gratitudine. La conosci la gratitudine dei figli, ma almeno un po' di gentilezza, qualche accenno di compassione. E invece io mi sono sempre rifugiato davanti a te, in camera mia, tra i miei libri, con i miei amici stravaganti, nelle mie idee eccentriche. Inoltre non ho mai avuto il senso della famiglia. Non mi sono mai occupato del negozio e delle altre cose tue. La fabbrica l'ho addossata a te e poi ti ho abbandonato. Ho dato manforte a Ottol nella sua testardaggine, mentre per te non muovo un dito, per gli amici faccio di tutto. Riassumendo il tuo giudizio su di me, ne emerge che non mi rimproveri a dire il vero qualcosa di davvero sconveniente o malvagio, fatta eccezione forse per il mio ultimo progetto matrimoniale, ma freddezza, distanza, ingratitudine. E me lo rimproveri come se fosse colpa mia, come se con una bella sterzata io fossi stato in grado di indirizzare diversamente il tutto, mentre tu non ne hai la minima colpa se non fosse quella di essere stato troppo buono con me. Trovo questa tua interpretazione esatta soltanto nel senso che anch'io credo che tu non abbia alcuna colpa nel nostro allontanamento, ma non ne ho colpa neppure io. La sensazione di nullità che spesso mi sovrasta ha origine per molti versi nella tua influenza. Avrei avuto bisogno di un qualche incorangiamento, di un po' di gentilezza, di qualcuno che mi aprisse a poco il cammino e invece tu me lo sbarravi, anche se con la buona intenzione di farmene imboccare un altro. Il successivo risultato visibile di questa educazione fu che rifugivo da tutto ciò che anche soltanto lontanamente mi ricordava a te. Bastava la tua presenza fisica ad opprimermi. Ricordo per esempio che spesso ci cambiavamo nella stessa cabina. Io magro, debole, sottile, tu forte, grande, grosso. Già in cabina mi sentivo miserabile e non solo di fronte a te, bensì di fronte al mondo intero, perché tu eri per me la misura di tutte le cose. Quando mi accingevo a fare qualcosa che non ti piaceva e tu mi intimidivi con la previsione di un fallimento, il timore della tua opinione era tale che l'insuccesso, magari solo rinviato nel tempo, era inevitabile. Persi la fiducia nelle mie azioni. Diventai incostante, pieno di dubbi. Più crescevo, più aumentavano le mie prove che potevi produrre a dimostrazione della mia pochezza. la stima di me stesso dipendeva molto più da te che da ogni altra cosa, per esempio da un successo esteriore. Tra me e te non ci fu mai una vera battaglia. Venni ben presto sconfitto e non mi rimasero che la fuga, l'amarezza, l'afflizione, la lotta interiore. Perché le nostre esigenze erano del tutto diverse. Quel che sconvolge me ti tocca appena e viceversa. Quel che per te è innocenza per me può essere colpa. Ciò che per te non ha conseguenze può diventare il coperchio della mia para. Così hanno deciso le condizioni della lotta e le necessità della vita. Io devo scegliere il niente.